A che servirebbe la libra di carne? A fardesca i pesci. Se non può nutrire nient'altro, almeno nutrirà la mia vendetta. Antonio mi ha maltrattato, mi ha fatto perdere mezzo milione e aggiuito delle mie perdite, deriso i miei guadagni, disprezzato il mio popolo, ostacolato i miei affari, allontanato i miei amici e aizzato i miei nemici. E tutto ciò per quale ragione? Perché sono ebreo. Ma non ha occhi un ebreo, non ha mani un ebreo, organi, membra, sensi, affetti, passioni. Non si nutre dello stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, non soffre delle stesse malattie e non è curato con gli stessi rimedi. Scaldato, raggelato dalla stessa estate, dallo stesso inverno di un cristiano. E se ci pungete non versiamo sangue? Se ci fate soletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? Ma se ci fate torto, non dobbiamo vendicarci? Se siamo a voi uguali in tutto il resto, perché non dovremmo assomigliarvi anche in questo? Se un cristiano è oltreggiato da un ebreo, che tolleranza ha? Immediata vendetta. E se un ebreo è oltreggiato da un cristiano? Quale può essere, secondo l'esempio cristiano, la sua tolleranza? Ebbene, la vendetta. La malvagità che voi mi insegnate, io la metterò in pratica e non sarà difficile che vada anche oltre, ben oltre, l'insegnamento del maestro.